A quanto pare Lady Susan verrà a trovarci. Lady Susan Vernon! Quella donna è il demonio. Felicitazioni, state per ricevere la più abile civetta di tutta l'Inghilterra. Mi spiace presentarmi in tal maniera. Che delizioso quadretto familiare. Mio cognato è un uomo molto ricco. Dalle difficoltà, si dice, nascano le opportunità. Sir James Martin. Enormemente ricco e sempliciotto. Ma che buffe, quante piccole palline verdi, come si chiamano? Piselli. Se mia figlia non fosse tanto babbea, sarebbero già fidanzati. Mammina, lo so che Sir James è un uomo gentile, ma un matrimonio dura per tutta la vita. Non per la mia esperienza. Posso presentare Lady Susan? Lieto di fare la vostra conoscenza. È attraente, non trovate? Attraente come un vitellino. Manering è in città. Avete visto mio marito? Una donna orribile. Una pazza. Se è così gelosa, non avrebbe dovuto sposare un uomo tanto affascinante. Questa donna ottiene sempre tutto. È inquietante quanto conosca bene la natura dell'uomo. Temo fortemente che Lady Susan Vernon possa distruggere la serenità delle nostre vite. Con piacere. Un vero bell'educato. Avevate promesso di interrompere ogni contatto con questa donna. Che errore hai commesso a sposarlo. Troppo vecchio da governare, troppo giovane per morire.